Il Governatore Gianni approva entrambi gli interventi. Per la prima volta oltre 300 casi in un giorno e ancora un decesso, clamoroso errore dell'ASL, ieri una vittima e non nove. Galleria degli Alberti, dopo il pronunciamento del TAR l'obiettivo è la riapertura al pubblico nel 2021. Quattro spacciatori arrestati ai caselli autostradali, sequestrate oltre mezzo chilo di droghe e quasi 40.000 euro. Prato, capitale dell'economia circolare con eco, tre giorni di dibattito tra ospiti internazionali e performance nelle aziende. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale l'emergenza sanitaria non c'è soltanto l'ex Creaf. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni approva infatti anche il nuovo progetto di ampliamento nei locali dell'ospedale Santo Stefano per reperire nuovi posti letto da dedicare ai pazienti Covid. Siamo pronti a fronteggiare la crescita della curva pandemica, ha detto Gianni. Sentiamo. Via Libera all'ampliamento dei posti letto all'ospedale Santo Stefano per fronteggiare l'aumento dei contagi e dei ricoveri causati dal Covid. A seguito del sopralluogo tenuto ieri a pranzo al Santo Stefano, la presenza dell'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni arriva l'ok anche dal governatore per l'intervento che trasformerà in spazi sanitari le aree ai lati dell'ingresso dell'ospedale delimitate da grate in ferro. In totale verranno ricavati 53 posti letto, spiega l'assessore regionale Monia Monni. Non risolvono tutti i problemi, ma comunque la valutazione dell'intervento è positiva perché si tratta di spazi sanitari che resteranno alla città e alla provincia, conclude Monni. I posti letto verranno ricavati a piano terra e la regione ha già dato mandato all'ASL di partire con la progettazione. Non a caso già da questa mattina ci sono stati ulteriori sopralluoghi da parte dei tecnici dell'ASL e della protezione civile regionale per verificare le procedure dell'intervento. Io vedo tutti e due gli interventi fattibili. Per l'ospedale di Prato e le sue condizioni, benissimo quell'intervento. Ma il CRAF diventa, a mio giudizio, necessario nel momento in cui mi viene prospettato dall'Arts, dall'Agenzia regionale toscana, una crescita ipotetica della curva pandemica che mi porta a dover dotarmi di almeno 4-500 posti Covid. Non tanto oggi, dove abbiamo le posizioni in ospedale, ma un domani, fra un mese, se questa curva cresce. È evidente che una cosa è l'intervento nell'ospedale di Prato che serve ai cittadini di Prato, una cosa è l'intervento nel CRAF che serve a tutta l'ASL Firenze-Prato-Pistoia. Il Governatore ha inoltre ribadito che la trasformazione di una parte dell'ex CRAF in un nuovo ospedale Covid da 400 o 500 posti si farà. Attraverso un'ordinanza io darei il via ai lavori da parte del settore della protezione civile e naturalmente la copertura delle spese necessarie sarà portata nella terza variazione di bilancio che il Consiglio regionale prevede di affrontare giovedì prossimo. E per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria a Prato e provincia si contano oltre 300 casi in un giorno e c'è anche un nuovo decesso. Intanto si registra il clamoroso errore della ASL. I morti a causa del Covid nella giornata di ieri non sono stati 9 come comunicato in un primo momento, ma uno. Torna a crescere con più velocità la curva dei contagi da Covid a Prato. Ieri 148 nuovi positivi, oggi più del doppio, ovvero 302 nuovi casi di coronavirus nella nostra provincia. È la prima volta che in un solo giorno viene superata quota 300 contagi per un totale di 4.645 casi dall'inizio dell'emergenza. E anche oggi si registra un decesso, il 75esimo. A far notizia però è il grave errore commesso ieri dall'Asla Toscana Centro, che nell'affrontare questa seconda ondata pandemica sta incontrando molte difficoltà, come sanno bene i tanti pazienti alle prese con l'emergenza Covid. Ieri però si è verificato un errore ed il poco clamoroso. La gaffa riguarda la trasmissione dei dati alla regione per il consueto bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia. Stando all'Asla, ieri sarebbero stati 40 i deceduti totali nei territori di Firenze, Prato e Pistoia, in un solo giorno 9 a livello provinciale pratese. Un numero alto e preoccupante, invece ecco l'errore. Ieri le morti tra i residenti nell'Asla Toscano Centro sono state in realtà 25 in totale, di cui una soltanto in provincia di Prato e non nove, come inizialmente comunicato. L'errore, spiega l'Asla Toscana Centro, è dipeso da un problema tecnico nella trasmissione dei dati da parte dell'azienda stessa, che ha portato a sovrapporre i decessi ad elenchi anche di non deceduti. Persone in sostanza date per morte, ma fortunatamente ancora vive. Una svista grave che aveva fatto allarmare ancora di più una comunità già sotto stress per la situazione sanitaria. E approfondimenti sull'emergenza Covid. Questa sera parliamoci chiaro, il settimanale di attualità di TV Prato. Per saperne di più passiamo la parola a Giancarlo Gisonni. Sì, grazie. Buonasera. Proprio così i temi che abbiamo ascoltato in questo inizio TG li approfondiremo nel corso della puntata di questa sera. Nella prima parte ospiti in studio, l'assessore al sociale e le politiche sanitarie Luigi Biancalani assieme al consigliere comunale Daniele Spade e in collegamento Skype avremo la dottoressa Rosanna Sciumbata vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Prato, nonché consigliera regionale e presidente della Commissione 5 Sanità. E poi da non perdere nella seconda parte avremo l'intervista col governatore della Toscana Eugenio Gianni con il quale abbiamo fatto un quadro della situazione per quanto concerne l'andamento dell'epidemia in Toscana, le misure messe in campo dalla regione toscana e le novità introdotte dall'ultimo DPCM. Dunque appuntamento da non perdere a partire dalle 21.20 con Parliamoci Chiano, a più tardi. Grazie Giancarlo Gisonni, a più tardi. Oggi intanto è stato siglato l'accordo tra la regione e i medici di famiglia per i tamponi rapidi. Scopriamone di più. In Toscana i tamponi rapidi e antigenici potranno essere effettuati direttamente dai medici di famiglia e propri assistiti in studio, a domicilio, in spassi doni e in sicurezza su base volontaria e nei drive-thru o in contesti di microfocolai. È quanto previsto dal protocollo di intesa siglato dall'assessore alla sanità Simone Bezzini ed Alessio Nastruzzi, segretario generale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. La politica del territorio sul piano della sanità pubblica vede i medici di famiglia in un ruolo centrale e posso assicurarvi che dalle testimonianze che ricevo in questi giorni il fatto di sentire che il medico di famiglia può visitarli o anche li può sentire costantemente nell'arco della giornata gli può somministrare quei farmaci necessari per frenare l'andamento della malattia e del contagio da Covid e ci consente di svolgere una funzione di cura e di assistenza che non grava proprio sui nostri ospedali. Il medico di famiglia potrà quindi effettuare su base volontaria il tampone antigenico e su assistiti in studio o a domicilio. Quello che poi si può fare se invece il tampone antigenico venisse positivo è che dobbiamo avere, e questo abbiamo già definito con la nostra regione, un percorso che ci permetta rapidamente di fare un molecolare che è l'unico che dà la certezza della positività o della negatività del soggetto. I medici di famiglia potranno anche andare in aiuto al personale già esistente nei drive-thru delle ASL inoltre nell'accordo è prevista la sperimentazione sul modello assistenziale H16 finalizzato al coinvolgimento della continuità assistenziale in supporto all'attività per l'emergenza Covid-19. L'attivazione di centrali telefoniche organizzate in ogni area vasta dalle ore 24 fino alla mattina la possibilità di recuperare, per essere chiari, le cosiddette guardie mediche che svolgeranno attività in presenza fino alle 24, poi dalle 24 e poi entreranno in funzione le tre centrali telefoniche per assicurare la continuità assistenziale risparmiando quindi uso di personale, le ore che saranno risparmiate verranno dedicate da questi professionisti per attività negli alberghi sanitari per coadiuvare le istituzioni nell'attività di tracciamento e per l'attività ambulatoriale. E parliamo adesso del nuovo DPCM, la Toscana farà parte della zona gialla vediamo quindi quali sono le misure in vigore a partire da domani. La Toscana farà parte della cosiddetta zona gialla lo ha chiarito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta TV illustrando i contenuti del DPCM che entrerà in vigore da domani per consentire ai vari territori di allinearsi alle regole stabilite dal Governo. Il nuovo DPCM resterà valido fino al prossimo 3 dicembre. Secondo la strategia individuata dall'Esecutivo per frenare la scalata dei contagi da Covid l'Italia verrà divisa in tre fasce di colore sulla base degli indici di contagio e dei parametri di rischio rossa con lockdown sulla scia di quelli vissuti lo scorso marzo arancione fascia intermedia e gialla con rischio inferiore o lieve. La Toscana dunque rientrerà, almeno per questo momento, nelle aree gialle ma potrà comunque cambiare fascia sulla base dell'andamento del contagio e del livello di saturazione degli ospedali. Queste le regole previste intanto per la zona gialla coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino dopo le 22 è possibile uscire soltanto per comprovate esigenze dunque per motivi di lavoro, salute e emergenze. Per quanto riguarda la scuola, didattica a distanza nelle scuole superiori didattica in presenza invece per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. È prevista la chiusura di bar e ristoranti alle 18 l'asporto è consentito fino alle 22 per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti di vendita di generi alimentari tabaccherie ed edicole al loro interno. Guardando al trasporto pubblico è garantita la capienza al 50% su bus e treni regionali. Dopo cinema e teatri chiusi anche mostre e musei stop invece a tutti i concorsi pubblici fatta eccezione per quelli relativi all'assunzione del personale sanitario. È consentito l'accesso nelle aree verdi, i parchi rispettando la distanza di un metro e il divieto di assembramenti. Per quanto riguarda infine le attività sportive è consentito svolgere attività sportiva o attività motori all'aperto anche in aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Palestre e piscine restano chiuse. E voltiamo pagina, torniamo adesso a parlare della Galleria di Palazzo degli Alberti. Dopo la sentenza del TAR che ribadisce il vincolo territoriale della collezione comprato, le opere potrebbero presto tornare visibili al pubblico grazie agli investimenti di Banca Intesa San Paolo che sta completando l'allestimento dei nuovi spazi espositivi. A confermarlo è il sovrintendente Andrea Pessina. Se non ci fosse stata di mezzo la pandemia la Galleria degli Alberti avrebbe potuto riaprire al pubblico già entro poche settimane. È infatti in fase avanzata la sistemazione degli spazi espositivi al primo piano del Palazzo degli Alberti di proprietà di Banca Intesa che ha già effettuato i lavori per separare gli accessi rispetto agli sportelli bancari in modo da consentire la fruizione delle opere anche in orari diversi da quelli di apertura della filiale. D'intesa con la sovrintendenza la banca sta completando l'allestimento delle sale almeno tre destinate ad ospitare i capolavori della galleria tra cui i dipinti di Filippo Lippi, Giovanni Bellini, Caravaggio e le sculture di Lorenzo Bartolini. La notizia è confermata dal sovrintendente Andrea Pessina sovrintendenza che assieme all'Associazione Amici dei Musei alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e al Comune ha portato avanti la battaglia legale per la posizione del vincolo tra il Palazzo degli Alberti e le opere in parte trasferite a Vicenza da Gianni Zonin negli anni 2000 una battaglia che nei giorni scorsi ha ottenuto la sentenza favorevole del Tar Toscana partita grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana Oggi rilanciata con forza da TV Prato se la fruizione delle opere grazie agli investimenti di banca intesa e alla sentenza del Tar sta per essere sbloccata resta irrisolta la questione della proprietà dei 142 dipinti e sculture la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa deve vendere le opere e ricavare quanto più possibile la valutazione di 60 milioni di euro del corpus pratese potrebbe essere ridimensionata dalla sentenza del Tar peraltro appellabile al Consiglio di Stato proprio poche settimane fa i commissari liquidatori hanno dato alla Casa d'Aste Pandolfini il mandato a vendere all'asta al miglior offerente altre opere d'arte dell'ex Istituto di Credito Vicentino quelle non vincolate è probabile dunque che i commissari vogliano accelerare anche per la vendita delle opere vincolate tra cui quelle della Galleria degli Alberti che possono anche essere cedute singolarmente all'acquirente sulla carta potrebbe poi subentrare lo Stato esercitando il diritto di prelazione e pagando la stessa cifra offerta dai privati un'ipotesi tuttavia remota visto lo stesso vincolo della bollezione con il Palazzo degli Alberti di proprietà di banca intesa è proprio quest'ultima già impegnata nella valorizzazione delle collezioni d'arte con tre sedi museali di proprietà a Milano, Napoli e Vicenza il soggetto più accreditato per entrare in possesso delle opere rilevandole dalla BPV in liquidazione e la battaglia per far tornare stabilmente la collezione di Palazzo degli Alberti a Prato nacque sette anni fa grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana oggi rilanciata con forza da TV Prato della questione si è parlato anche ieri sera intorno alle nove con il direttore di TV Prato Gianni Rossi e l'assessore alla cultura del comune di Prato Simone Mangani è stato un nostro cavallo di battaglia il settimanale Toscana oggi fa parte della famiglia di TV Prato e tutto ruota intorno alla definizione di bene culturale di interesse pubblico di questa collezione della Galleria di Palazzo degli Alberti che fu delineata per la prima volta in un intervento di Toscana oggi del luglio 2013 io decisi di coinvolgere per porre questo quesito l'avvocato Mauro Giovannelli noto amministrativista perché ero convinto che in qualche modo si potesse immaginare un vincolo di questa collezione con la città di Prato proprio in quei giorni appunto nell'estate del 2013 il presidente Zonin aveva deciso di di trafugare perché bisogna proprio dire così i capolavori principali di questa galleria e di portarli stabilmente a Vicenza quella definizione la ritroviamo pari pari nella sentenza del Tar della Toscana proprio di questi giorni non le chiedo di consultare la sua sfera di cristallo però ci può dare dei tempi quando ritorneremo da visitatori dentro la Galleria degli Alberti anche perché non ce l'ho ovviamente sfortunatamente la sfera di cristallo però posso pensare che concluso il periodo non della pandemia perché questa è una previsione che nessuno di noi in questo momento è in grado di fare ma concluso lo stato di emergenza nel quale in questo momento per voto dei nostri rappresentanti del Parlamento siamo potremo individuare un tempo io credo che il 2021 sarà l'anno in cui potremo tornare davvero dentro la Galleria degli Alberti come è stato possibile farlo nel 2018 ma con una modalità ancora diversa e più compiuta anche se ovviamente sto rispondendo per la mia relativa parte per la nostra relativa parte di competenza perché la domanda evidentemente ha un destinatario primo che è banca intesa e uno secondo che è la liquidazione quarta amministrativa è morto all'età di 64 anni Duccio Cipriani artista e animatore della Goliardia personaggio molto conosciuto in città era ricoverato al Santo Stefano per complicazioni legate al Covid nel 2014 ha condotto per TV Prato la trasmissione Un caffè con Duccio è morto all'età di 64 anni Duccio Cipriani artista e animatore della Goliardia personaggio molto conosciuto in città Cipriani è morto all'ospedale Santo Stefano dove circa due settimane fa era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per complicazioni legate al Covid ha collaborato anche con TV Prato dove nel 2014 ha condotto la trasmissione Un caffè con Duccio 20 minuti di chiacchiere informali con volti noti di Prato Bene Andrea tu sei nato nel 65 io qualche anno prima però siamo di marzo tutte e due quindi siamo pesci siamo dei pesciolini e su questo io ti capisco perché siamo un po' molto romantici diciamo romantici non decadenti tanto per darci una ma siamo romantici Stretto il suo legame con il teatro e l'intrattenimento membro delle pagliette attore di teatro con Rodolfo Betti protagonista dei cabaret negli anni 80 ha recitato in diverse riviste del Buzzi collaborando alla regia negli anni 2000 Ti ricordi quando le si faceva a noi? Ecco me lo ricordo sì erano altri tempi altre generazioni perché poi te tu l'hai fatta prima di me perché io sono cominciato nell'88 un bye bye bailoni Ok Alla fine degli anni 70 è stato tra i fondatori del tennis club di Via Firenze l'amico Marcello Magni lo ricorda come il Gigi Proietti di Prato altro amico di una vita l'imprenditore Marco Duradoni ultimamente Cipriani era stato coinvolto in progetti cinematografici come il film Gli Infami con Pace e Ceccherini in qualità di attore produttore e esecutivo E a volte ci siamo trovati senza fissare per Prato dove anch'io magari ero un po' immerso nei miei pensieri fai due passi perché a Prato gli vogliamo un gran bene E passiamo adesso alla cronaca i carabinieri hanno arrestato quattro spacciatori sorprese ai caselli autostradali sulla 11 hanno sequestrato oltre e mezzo chilo di droghe quasi 40.000 euro in contanti Doppia operazione agricoltura incensurati che si trovavano a bordo di un'auto noleggiata i due sono stati trovati in possesso di 533 grammi di marijuana e 30.000 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio i carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e il denaro che erano stati nascosti nel vano della ruota di scorta i due sono stati arrestati e condotti al carcere della Dogaia a distanza di 24 ore i militari hanno fermato altri due spacciatori stavolta al casello autostradale di Prato Ovest a finire nei guai due cittadini cinesi un 29enne domiciliato a Prato disoccupato e pregiudicato e un 27enne anche lui domiciliato a Prato e senza occupazione che avevano raggiunto il casello con le rispettive auto i carabinieri hanno sorpreso il 29enne mentre stava accedendo al connazionale 17 grammi di ketamina in cambio di 560 euro in contanti a casa del 27enne sono stati rinvenuti e sequestrati altri 4.280 euro una bilancina di precisione e 155 bustine di cellofan per il confezionamento delle dosi presso l'abitazione del 29enne invece i militari hanno trovato altri 6 grammi di ketamina e 3.950 euro i due spacciatori sono stati arrestati in attesa di comparire domani davanti al giudice Prato capitale dell'economia circolare torna infatti il festival Reco tre giorni di dibattito tra ospiti internazionali e performance nelle aziende simbolo del territorio ce ne parla Giulia Ghizzani edizione numero 2 per Reco l'unico festival in Toscana dedicato all'economia circolare che si svolgerà dal 6 all'8 novembre con decine di dirette da Prato in radio tv e sul web organizzato da Regione Toscana con il coordinamento del Comune di Prato e la direzione artistica di Alessandro Colombo il festival si rigenera in un nuovo format digitale con tanti ospiti e protagonisti sui temi dell'innovazione circolare come chiave per la ripartenza apertura ufficiale il 6 novembre con una giornata di dibattito sui temi dell'economia circolare e la prestigiosa presenza di Michael Braungart teorico del modello che plasma l'industria umana sui processi naturali e poi la filiera del food con gli chef Fabio Picchi e Diana Cecconi fino allo spettacolo in prima mondiale a cura del violoncellista Mario Brunello e del neurobiologo delle piante Stefano Mancuso che faranno dialogare bacche e madre natura in diretta su TV Prato alle ore 21 e 20 il programma prosegue sabato 7 novembre con la performance live di Street Art di Luca Barcellona nelle settimane successive si susseguiranno invece gli appuntamenti di Open Factories percorsi di turismo industriale che condurranno il pubblico in otto delle aziende tra le più rappresentative del distretto pratese attraverso altrettante esibizioni in onda sui canali della manifestazione anche su TV Prato in prima serata dal 20 novembre tra musica teatro e danza visite virtuali che diventeranno dei mini documentari in cui si potrà vedere sia le performance che scoprire un po' cosa si cela dentro queste fantastiche aziende e del Festival Reco ci occuperemo anche nel corso di intorno alle 9 l'appuntamento è per questa sera subito dopo il nostro telegiornale e questa era appunto l'ultima notizia il telegiornale termina qui l'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno ma rimanete con noi tra poco le previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma a seguire appunto intorno alle 9 durante il quale si parlerà della seconda edizione del Festival Reco e poi parliamoci chiaro dedicato questa sera all'emergenza sanitaria grazie per averci seguito e arrivederci dal 2004 David Servizi offre sistemi completi di pulizia con tecniche e strumentazioni all'avanguardia i nostri punti di forza sono professionalità rapidità d'esecuzione e prodotti a basso impatto ecologico David Servizi Buonasera e ben ritrovati con le previsioni mete a cura del Consorzio Lamma la situazione sull'Europa per i prossimi giorni sarà all'insegna dell'alta pressione alta pressione con i suoi massimi sull'Europa centrale e stenderà la sua influenza anche sulla nostra penisola a garanzia di tempo stabile e soleggiato e affluirà anche area più asciutta rispetto a quella dei giorni appena trascorsi andiamo infatti a vedere la previsione per domani ampie schiarite ovunque cielo sereno poco nuvoloso solo qualche modesto addensamento mattutino sulla provincia d'Arezzo e Siena caleranno un po' le minime al mattino o comunque ancora di un paio di gradi superiori alle medie del periodo scaleranno soprattutto nelle zone interne nelle vallate maggiormente riparate dai venti dal nord-est venti ancora moderati con qualche rinforzo sui rilievi caleranno nel pomeriggio i venti le schiarite saranno ampie ovunque e temperature che potranno raggiungere anche 20 gradi centigradi anche per la giornata di sabato buone notizie dal punto di vista meteorologico tempo stabile e soleggiato ovunque caleranno le minime farà più fresco decisamente al mattino valori tra i 5 i 6 i 7 gradi i centigradi nelle vallate dell'interno le massime invece fino a 20 gradi quindi una giornata con elevata escursione termica è tutto grazie per l'attenzione una buona serata grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione